Drastico cambiamento del tempo sulla nostra regione dovuto alla presenza di questa depressione che si è formata sul Golfo Ligure e che richiama correnti meridionali umide verso il nord Italia e richiama correnti da nord-est di Bora al suolo. Oggi dunque cielo coperto sulla regione con delle piogge. Previsioni per sabato. Sabato la depressione si porterà verso la nostra regione quindi avremo un cielo tra variabile e nuvoloso. Saranno possibili delle piogge sparse e in genere deboli. Forse però anche qualche rovescio temporalesco più probabile nel pomeriggio sera di domani. Sulla costa soffrirà ancora Bora in genere moderata al mattino. Temperature massime attorno ai 26-27 gradi in pianura attorno ai 23-24 sulla costa. Domenica aggiungerà un fronte freddo sulla nostra regione. Avremo dunque cielo coperto con piogge intense su una parte della regione anche temporalesche. Sarà possibile forse anche qualche temporale forte con delle piogge localmente molto intense. Sulla costa soffrirà alternativamente un po' di vento da nord-est e un po' di vento da scirocco. Scirocco che potrebbe poi entrare nel pomeriggio anche in pianura. Le temperature naturalmente caleranno, valori massimi attorno ai 20-21 gradi. Il fronte freddo si attesterà, si attarderà sulla nostra regione fino a lunedì mattina quando avremo le ultime piogge sul Carso e a Trieste e poi in giornata cielo poco nuvoloso su pianura e costa, un po' più di variabilità di montagna. Non è escluso qualche episodio o qualche rovescio temporalesco nel pomeriggio. Venti di brezza e temperatura in leggero aumento. Il resto della settimana sarà un progressivo miglioramento del tempo e farà un po' più caldo. Buon fine settimana! Grazie a tutti!